Occhio Buffy Min e Skull Perfect credo Scusate la qualità ma è quella È la qualità del video Così No No Come sempre la grandissima oggi ragazzi Andremo a vedere una compilation Che mi avete condiviso voi e mi avete detto Prova a guardare questa roba e non piangere Perché sono momenti veramente tristi di Fortnite Quindi ho detto guardiamo Ho visto un pezzetto e E devo dire che quasi 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 Mi scendevo una lacrimoccia perché sono stati momenti Veramente Difficili però a parte gli scherzi ragazzi Guardatevi questo video non so se vi possono Piacere queste tipologie di reaction Però vi sono divertito spero che anche voi Lasciate un bel pollice in su se ne volete altri E mi raccomando condividetemi Qualsiasi cosa mi volete far vedere per Reagire e portarci magari un video sul canale Detto questo mettete super super comodi Prendete la vostra Coca Cola Popcorn ed ora si come sempre Oh con il microfono Con il microfono Let's go Ok ragazzi quindi vediamo questo video Mi avete detto che Mi potrebbe far piangere Vediamo Allora quello che vedo Sta giocando in solitario Il nostro amico General Sin C'è una musica T6 sottofondo allucinante Mi ha ucciso una picconata Ah vuole salvare Vuole salvare E anche se non è suo amico Anche se non è suo amico Gli dice Sto arrivando Sto arrivando Vediamo 47 di legno Ancora vivo Legato per sbaglio No way E va a fare altro materiale No Che grande è questo Allora se mi capita una situazione del genere A me Sono sicuro che nessuno mi salva Nessuno Anzi mi sparano da sopra Pur di uccidermi La comunità La comunità Ce ne sono pochi come lui Come questo eroe Guarda Ha costruito No se riesce a salvarlo È un grande 26 e 12 Forza amico No Come fa Non riesce a prenderlo fin là Ah ok L'ha preso È andato giù È risalito Ma sta musica triste C'è Mi manca poco Ce la Oh no Li mancava una scala Vedi un altro albero Si fionda a picconare Ma sta musica triste Oh è troppo È troppo epica C'è un momento Particolare È un momento Che pochi Possiamo vedere Attenzione L'ha salvato L'ha salvato Questo è un eroe Questo Ero quasi Mi ero quasi emozionato E poi mi mette questo che piange Lol Dovete vincere insieme Dovete farcela Questa amicizia Non si può rompere In questo modo Attenzione Lo sta aiutando È tantissimo Che scene immemorabile Che scene Ce n'è uno Ce n'è uno Attenzione Li spara Arriva lui Che grande squadra Che stiamo facendo A proposito Non vorrei sbagliarmi Ma mi sa che questo Non è molto legale Mi sa che C'è rischio Però È speciale È speciale Questo momento Continua a vedere Cosa fanno adesso Ok Disegna il cadavere lì No No Lo vuole uccidere Vuole morire lì E muoiono insieme Non ci credo No Che spettacolo Che spettacolo Mai visto una scena del genere Inizio un po' Mi vengono i brividi Sono ancora due Sì due Che si sono incontrati Random Mister Liam04 Ballano Festeggiano Si sta divertendo Alla fine questo gioco È per divertirsi No Perché no Fare anche nuove amicizie Gli dà tutto Il suo loot Proiettili Tutto gli sta dando Ma cosa devono fare Lui dice No Non voglio sta roba Tienila tu Prendi Prendi tutto Prendi tutto Lui non vuole niente Lui non vuole niente Prendi tutto amico No No Se n'è andato Ah questo quando ancora si poteva planare Bei tempi Oh ma l'ha ritrovato L'ha ritrovato Che bello vedere questa scena Loro due che si divertono I cuoricini addirittura Occhio ne arriva un altro Ce la potete fare Voi due insieme Sono indibattibili La musica triste Oh my god No 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 Cuoricino rotto No Hai ucciso il suo amico L'hai ucciso No Guarda Si ricorda Si ricorda Si ricorda No No way No way No way No way A trovarli Compagni così Lì cerca di scappare Ma ormai Ha perso il suo migliore amico Previvo eh Previvo Oh my god Muore così Addio Ah e finisce con la grippe 1 2 3 4 Ma sono da sole Oppure no No Questo ha preso l'arma E li uccide tutti Lui dice no Uno di vita Uno di vita Uno di vita Si mette a piangere A me non funziona mai Io mi metto a piangere Pam Mi uccidono all'istante No Ma come si può fare amicizia In questo modo Io mi metto a piangere Mi uccidono Faccio il ballo Mi uccidono Come va a finire questa storia Cioè se ci pensate È un videogioco Però dietro ci sono persone reali No Che stanno creando un rapporto Tramite i balli E le cretinate La musichina triste Deve aumentare Per commuovermi Ancora di più Lo uccidi E è rimasto uno di vita Che volete fare No Ah lì dice Mettiti lì Ti uccido lì No vabbè Ma io pensavo Lo lasciassi in vita E lui si mette lì E lo saluta No Rispetto per Rispetto per entrambi Rispetto per entrambi Addio Addio Allora vediamo quest'altra compilation E addirittura I primi sono italiani Occhio Baffinmin E school perfect Credo Scusate la qualità Ma è quella È la qualità del video Così No No E dov'è il set moment What What Vediamo questo Con questa canzoncina Ho finalmente una canzoncina Ok Sta ballando Vedi Vedi che ballano E non li uccidono Sta attento Perché può essere un troll Ok ok Non so se mi daranno il copyright Per questa canzone Ma spero di no 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 Vindicalo Vindicalo No Dai Ma guardalo Sta ballando contento No Vediamo qua che succede Va No 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 Non ci credo Non ci credo Che sfiga Che è un Poi Stotto trollato dai compagni Un'altra scena Che vuole essere ucciso Ma l'altro non vuole Lo chiude Non lo vuole uccidere Lo vuole salvare Lui Vuole arrivare Fino alla fine Insieme al suo nuovo amico Lo ringrazia Non vuole scar Non vuole niente Lascia tutto Uccidimi Alla fine pensa Mi uccide da solo Adios Grande soldato Oh E guarda così No Si succede anche lui No Vediamo Vediamo questa clip Qua sono in squad Qua può succedere qualcosa di interessante Mamma mia Come stanno Traia Rdando Picas 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 Non so Vedete dove sono Mi hanno trovato uno Lascia tutto Ah è l'ultimo È l'ultimo No 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 Non mi dire che Non mi dire che lo fanno vincere Ma lo voleva far vincere Chi è stato Chi è stato Chi l'ha ucciso Allora concludiamo con questa clip Lui ha trovato il suo amichetto Qua a Pinnacoli Sì sotto la casa Sì 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 Non lo vuole uccidere Lo lascia le ballare Tranquillo Però attenzione che arriva un altro E lo uccide Ha detto no E amichitos finisce così il video Spero che vi siate commossi Che abbiate pianto E che anche voi Siate così compassionevoli Se trovate uno che vi balla e butta tutte le armi E ragazzi ora vi saluto E ci vediamo al prossimo video Sempre qua sul canale Fate così Ciao